Il giorno e la storia, oggi è il 20 febbraio, 1958, il Parlamento approva la legge Merlin. 1986, l'URSS manda in orbita il primo modulo del NIR. 1909, Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo. Commenta il fatto del giorno Virman Cusenza, direttore dei Messaggero. Lo sprone di Rossini a Roma. Grazie.